Se volete avere la possibilità di vincere una PS4 dovrete iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche, iscrivermi con un commento che state partecipando, lasciare un mi piace al video e soprattutto scaricare l'applicazione Cash4Apps da questo link che troverete in descrizione così entrerete automaticamente nel giveaway, altrimenti non parteciperete ragazzi. Ciao a tutti ragazzi sono GT2 e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo vi rispiegherò il money freeze perché alcuni non l'hanno capito, quindi partendo subito con i requisiti, non ci stanno requisiti, entrate solamente nel mio gruppo Telegram e iscrivetevi al canale, vi serviranno solamente i soldi giusti per l'auto che dovrete comprare, cioè se voglio comprare la deluxe mi serviranno 4 milioni, però questi soldi non verranno scalati, dovrete essere in un party con un vostro amico e questi qua sono gli unici requisiti quindi la prima cosa che dovrete fare è andare nella storia e aprire il menu interazione e andare su modalità regista, premere X e una volta arrivati nella roulotte della modalità regista dovrete andare su avvia la modalità regista. Una volta spawnati all'interno della modalità regista riaprite il menu interazione e andate su creatore scene, vi farà questo brevissimo caricamento, dopodiché dovrete andare su scena 1, quindi premere X su scena 1, premere adesso cerchio una volta che vi esce la schermata con accessori, adesso premere quadrato e cerchio allo stesso momento, vi farà questa schermata così, questo caricamento e avete fatto, vi uscirà questo messaggio, lo accettate, adesso il vostro amico dovrà andare nel party e dovrà cliccare su giochiamo insieme poi host e vi dovrà invitare, voi dovrete premere opzioni, dopodiché premete il tasto ps e andate su tv e video e avviate un netflix o youtube, non lo avviate ancora e ripremete due volte il tasto ps, una volta fatto questo riandate su amici, andate sul vostro amico che vi ha invitato, premete accetta l'invito alla partita e subito dopo spammate il cerchio per uscire dalla mappa, vedete adesso sono pronto per farlo, premo X e adesso comincio a spammare il cerchio, se tutto riesce bene mi uscirà una schermata del genere, adesso mi dovrebbe uscire un messaggio, appena vi esce lo accettate e dopo che è uscito semplicemente vi porterà nelle nuvole, appena vedete che vi porta nelle nuvole vedete lo accetto, premio due volte il tasto ps, vado su netflix o avvio netflix youtube o una roba del genere e mi dirà che si sospenderà l'applicazione, voi premete si, quindi ve la sospenderà e ritornate subito dopo su gta online, premete X anche su questo messaggio, insomma accettate tutti quanti i messaggi, vi uscirà prima uscita dalla sessione e dopo unione ad una nuova sessione in corso e dopo che avete fatto questo, praticamente la parte tra virgolette su cui molti hanno avuto difficoltà è finita, per chi avesse ancora difficoltà o entra nel mio gruppo telegram dove glielo posso rispiegare e ci stanno circa 400 persone, quindi altre 400 persone lo possono aiutare, oppure nel commento bloccato in alto metterò una guida testuale che appunto spiegherà tutto quanto il glitch, una volta spawnati aprite il menu interazione, andate su inventario, dopo andate su munizioni, comprate delle munizioni a caso e vedete che i soldi non vi scaleranno, se vi scalano lo rifate, dopodiché andate sul sito warstock, io vi consiglio per fare il glitch e acquistate una deluxe, vedete se io non ho abbastanza soldi per acquistare questa deluxe mi uscirà questo messaggio, però non temete potrete acquistare ovviamente altre auto, io in questo caso ho acquistato una vigilante, perché dato che le metterò all'interno del CEO avrò delle difficoltà, quindi mettetele in altre garage ma non nel CEO, quindi una volta che avete finito di comprarle aspettate che vi arrivano, che vi arriva il messaggio che vi sono arrivate le auto e premete online, esci da GTA online, quindi uscirete da GTA online e rispawnerete sulla storia, una volta rispawnati sulla storia, vedete con Franklin, sarete ancora in modalità regista, il vostro vinco vi dovrà invitare nuovamente tramite host, tramite gioca insieme dal party, voi premete opzioni, andate su amici, ricliccate accetta l'invito alla partita e rifate lo stesso procedimento di prima, solamente che praticamente dovrete essere veloci a farlo, premete X, accetto l'invito alla partita e spammate cerchio, una volta che avete fatto questo sospendete nuovamente l'applicazione come prima, esattamente come prima, ovviamente sempre come prima dopo che vi andrà nelle nuvole e tutto quanto la sospendete e accettate tutti quanti i messaggi che vi escono, una volta rispawnati online andate nel garage dove avete acquistato le auto, io in questo caso ragazzi vi rimetto questa clip vecchia perché appunto non mi ha salvato tutte le vigilanti per quel motivo perché ho usato il garage ceo, quindi non usate il garage ceo, le rigirate tutte quante così e vi cambiate il completo e aspettate qualche secondo e quando avrete finito dovrete chiudere completamente l'applicazione, una volta che avete chiuso semplicemente la riavviate e quando vedete questa schermata con le stelline tenete premuto L1 ed R1 e se tutto riesce bene vi esce la calibrazione dello schermo, una volta spawnati nella storia semplicemente andate su online, gioca GT Online, sessione solo ad inviti e quando rispawnerete non avrete più praticamente modalità regista o roba del genere, vi dirà di accettare l'eula, voi accettate ovviamente e una volta spawnati vi faccio vedere che ho tutte quante le deluxe che ho comprato, in quel caso mi è rimasta solamente una vigilante ragazzi perché chi usa il ceo, vi do questa dritta, non potrà sostituirle col pallino blu, non so perché quindi portatela fuori e mettetela dentro, quindi la portate fuori dal garage e la mettete dentro al garage se usate il ceo, per quello ve lo sconsiglio che ci metterete tantissimo tempo, conviene riempire altri garage, quindi ragazzi se siete nuovi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video!